saluti a tutti ricevete un forte abbraccio nel signore dio vi benedica oggi il titolo dell'insegnamento è camminate come figli di luce per questo iniziamo dall'Evangelo di Giovanni capitolo numero 8 verso numero 12 Giovanni capitolo numero 8 verso 12 e Gesù di nuovo parlò loro dicendo io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita amen gloria al Signore Gesù ricordiamo che poco tempo fa la sorella Maria Luisa la leader della chiesa insegnava su questo titolo Gesù e la luce del mondo lui ci illumina al cammino e ci vuole tirar fuori dalle tenebre ricordiamo che nella prima lettera di Giovanni 5 19 il mondo intero è governato dal diavolo e che l'umanità va nelle tenebre vaga nelle tenebre nella concupiscenza nel desideri nei piaceri e non camminano nella luce nell'Evangelo nella dottrina e soprattutto dice qua che chi cammina nella luce non cammina nelle tenebre e avrà luce di vita e nella misura in cui noi conosciamo e avvaloriamo la dottrina di Cristo Dio ci darà un premio grande la vita eterna ricordiamo tutto e che la cosa più importante di uno conoscere il Dio della Bibbia il Dio di Abramo di Isacco di Giacobbe il Padre nostro il Signore Gesù Cristo un Dio pieno di misericordia un Dio che ci insegna che il nostro Signore Gesù Cristo è la luce del mondo e che lui è il cammino e la verità che attraverso lui raggiungeremo la vita eterna dice e leggiamo in Efesini capitolo numero 5 verso numero 8 e si riferisce al Signore a tutti noi e ci dice un tempo infatti eravate tenebre ma ora siete luce nel Signore camminate dunque e questo è l'insegnamento il titolo dell'insegnamento camminate come figli di luce dice perché in un altro tempo un tempo eravate tenebre la maggior parte di noi non conosceva Dio non conoscevamo del suo evangelo e camminavamo nelle tenebre nelle nostre concupiscenze nei nostri desideri nei nostri piaceri e non volevamo o non c'era arrivata l'opportunità di conoscere che Dio vive per molti di noi voi che siete da poco in chiesa e ci state ascoltando da poco pensiamo che la Bibbia è un libro difficile o che per un certo tipo di persone che vogliono dedicarsi solamente a leggerla a conoscerla anticamente dicevano che chi leggeva la Bibbia diventava pazzo e ricordiamo che per tanti secoli hanno voluto distruggerla però Dio ha permesso che in questi tempi in cui il mondo va nelle tenebre noi possiamo conoscere questa luce questa verità questa grande verità che Dio vive e che Dio esiste e che non è lontano come ci immaginavamo è vicino e Dio dice camminate camminiamo come figli di luce camminiamo per questo evangelo per questa dottrina perché veramente lasciamo il peccato di essere schiavi del nemico e veramente ci convertiamo come figli di luce per questo dice la Bibbia camminate come figli di luce come faccio per camminare come figlio di luce se tutto quello che mi circonda è tenebre se tutto quello che mi ha intorno la gente non crede la gente cammina nel peccato ricordiamo che il peccato è essere contrario al Signore dove lo imparo nella Bibbia e allora Dio ci dice qui in Efesini capitolo 5 verso 1 dice così siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi dice la soluzione siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi Dio vuole che ognuno di noi imiti il Signore per questo l'ideale è essere simili a Cristo essere la sposa dell'agnello essere luce essere testimonianza essere esempio come padre come figli come studenti come lavoratori in ogni aspetto perché dice la Bibbia con quest'ordine che ci dà il Signore siate dobbiamo essere imitatori di Dio però per imitare Dio io devo conoscerlo come faccio per conoscerlo se io non leggo la Bibbia se non sto attento alle prediche alle meditazioni agli studi biblici per questo è importante conoscere più di Dio più e più di Dio per poterlo imitare per sapere che Dio è buono e che Lui ha lasciato statuti ordinamenti decreti che sono scritti nel nostro cuore e nella misura in cui noi leggiamo la Bibbia e quanto più ci impegniamo con Lui Lui ci benedice Lui ci porterà avanti Lui farà in modo che noi possiamo essere definitivamente esseri straordinari perché perché saremo della famiglia celestiale della famiglia di Dio e avremo il cognome di Dio e perché avremo questo cognome perché saremo questi cristiani che camminiamo come figli di luce essendo esempio nel luogo dove siamo come ci comportiamo perché è così che si differenziano i figli di Dio quelli che vogliono essere veramente figli di Dio e vogliono camminare come figli di luce ed essere imitatori di Dio Dio ci ha mostrato il suo amore ha dato la vita per voi e per me ha comprato a prezzo alto di sangue tutti noi perché noi possiamo apprezzare questo lavoro che ha fatto il Signore Gesù Cristo nel Calvario e dice nel verso 2 di questo capitolo di Efesini capitolo numero 5 camminate nell'amore guardate cosa ci insegna qui e ci ripete quando dice essere imitatori di Dio camminate nell'amore cosa significa non peccare questo significa non peccare non peccare già dobbiamo appartarci del mondo dobbiamo essere diversi senza essere fanatici però sempre pensando come con piacere il Signore perché lo stiamo imitando perché abbiamo letto la Bibbia perché abbiamo imparato il suo Evangelo la sua dottrina e vogliamo imitarlo e dice anche la Bibbia come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore soave questo è quello che ha fatto Cristo che è stato l'agnello immolato l'offerta perfetta e si è sacrificato per voi e per me come questo figlio amato primogenito e diceva il Padre inviami inviami Signore e io riconcilierò il mondo con te con Dio e dice bene l'Esaia che è stato portato al mattatonio e come agnello è rimasto muto e ci ha comprato ed è stato crocefisso come il peggiore criminale di tutti così è stato trattato il Cristo per portare il nostro peccato e quando dice siate imitatori di Dio perché dobbiamo camminare come figli di Dio allora non può essere che continuiamo ad andare nelle tenebre a camminare nelle tenebre il verso 3 dice che la fornicazione l'impurità l'impurità alcuna ne avarizia neppure siano nominate fra di voi e quando c'è e vogliamo cercare Dio in tanti modi non sapendo che Dio è spirito e verità e impurità la gente diventa ripugnante per il Signore perché è una persona in tanti piaceri e da brigia sciolta alla carne e diventa immonda per il Signore in Apocalisse dice freddo tiepido o caldo e dice che il tiepido sarà vomitato dalla bocca quando uno fa finta di essere per il Signore ma i pensieri sono immondi e questo non piace al Signore per questo non possiamo camminare nelle tenebre la Bibbia dice qui svegliati tu che dormi risvegliati fra i morti ti illuminerà Cristo e questo è quello che vuole Dio che noi non camminiamo nelle tenebre e che ci alziamo e ci risvegniamo dai morti camminare nelle tenebre nell'oscurità persi ciechi però Dio ci ha dato un'opportunità di riconcigliarci con Lui di conoscerlo e dice nel verso 4 lo stesso si dica dell'oscenità del parlare sciocco e della buffoneria ci sono persone che sono orgogliose sono vanitose e non vogliono sottomettersi a Dio ci sono persone che agiscono senza vergogno e vivono facendo truffe alle persone e quando uno vuole seguire Dio e vuole camminare come figlio di luce non può fare tutto questo e dice che nulla di questo conviene sono sconvenienti che non conviene ma piuttosto abbonde di ringraziamento quando noi camminiamo in questa luce dobbiamo ringraziare Dio per averci riscattato dal mondo dalle passioni vergognose da questo vecchio uomo e ci ha rigenerato per essere veramente un figlio di Dio una figlia di Dio e mi ricordo di una testimonianza di una ragazza che è venuta in chiesa con mamma e papà lei aveva circa 13 anni ha conosciuto il Signore si sono innamorate di Dio padre madre e figlia e hanno iniziato ad assistere alla chiesa a innamorarsi di Dio a voler servire il Signore come ci succede a tutti noi nella misura in cui conosciamo il Dio che vive e vogliamo imitare Dio e vogliamo camminare come figli di luce desideriamo che Dio ci battezzi che con il suo santo spirito ci dia i doni spirituali perché così dice la Bibbia camminate come figli di luce e questa giovane è entrata all'università e quando ha cominciato con questo gruppo dell'università molto costosa dove c'erano persone ricche queste persone la maggior parte di queste persone all'estero erano ate dicevano ma perché il Signore che tutto lo dava il mondo non Dio e era sufficiente avere buone connessioni e lavorare perché questi genitori erano dirigenti di una multinazionale padroni di fabbrica e mai erano andati in una chiesa perché per avere il denaro non c'è bisogno di cercare Dio dicevano loro che Dio non esisteva questa giovane ha dichiarato che lei era cristiana sì che credeva in Dio vivo in Dio di potere e questi giovani cominciarono a darle fastidio e cominciavano a fare bullismo nei confronti di questa giovane e andiamo in una discoteca andiamo in un bar e lei diceva no io per i suoi principi non lo faceva i compagni raccontavano di tutto quello che facevano di come consumavano droghe fornicavano si ubriacavano e lei la disprezzavano si burlavano di lei e le dicevano che era pazza che era fanatica e si sono burlate tanto di loro e l'hanno isolata tanto che lei un giorno per non sentire questo disprezzo è iniziato a uscire con loro e racconta questa giovane che ha iniziato ad andare in discoteca ha iniziato a ubriacarsi e allora diceva che la coscienza l'accusava e ha iniziato a lasciare la chiesa non andava più in chiesa questi giovani dicevano Dio non esiste Dio non è una realtà vieni e l'hanno indotta a consumare droghe a fornicare e che lei è arrivata nelle nelle tenebre nell'oscurità con tutti loro ha iniziato a dubitare dell'esistenza di Dio i genitori angosciati a vedere come la figlia si perdeva nel mondo nelle tenebre loro pregavano Dio dicevano Dio di avere misericordia e cos'era successo non comprendevano era doloroso quando una questa famiglia cercavano Dio i figli non la figlia non cercava Dio questo fa male mi hanno raccontato genitori che hanno vissuto questa situazione un dolore traumatico come i figli si perdono nelle tenebre nel mondo come si fanno governare dal maligno e loro andavano in chiesa e Dio gli diceva non vi preoccupate presto la figlia tua figlia tornerà tua figlia tornerà e si congregherà e mi cercherà e le darò un'esperienza perché ha valori le cose mie e racconta che è passato il prezzo del Signore che può essere un'ora un giorno un mese un anno e dopo nove mesi un giorno un sabato erano in casa nell'appartamento e quel giorno la figlia stranamente ha detto che voleva rimanere in casa e non voleva uscire e è andata a dormire presto i genitori si domandavano e si chiedevano perché stava lì e l'hanno lasciata andare a letto e in quel giorno sognò nel primo sogno lei dice che si sogna in questa zona piena di bar discoteche che lei arrivava lì e tutto il mondo camminava avanti a lei però erano come zombie i compagni tanta gente zombie e lei diceva sono morti che succede sono zombie che sta succedendo e dice Dio sì sono morti in vita e lei ascoltava una voce chi sei chi sei tu io sono quello che sono chi sei Dio e lei si è svegliata pensando Dio mi ha parlato in sogno come dicono lì in chiesa in visione in profezia a me ha parlato in sogno e si è riaddormentata e quando si è riaddormentata ha sognato nello stesso luogo però questa volta trovava tutti i loro amici che volevano entrare in discoteca però quando lei si avvicinava a loro dice che vedeva la carne loro che stava marcendo e puzzavano di mondo puzzavano di marcio e loro lei diceva che brutti che siete voi siete immonde state marcendo e diceva così e racconta che una voce diceva sì loro sono così per me sono stanno marcendo perché vanno in concupiscenza in piacere e lei diceva Dio Signore io io mi sono lasciato manipolare da loro Signore aiutami abbia misericordia e lei si è guardata davanti a uno specchio nel sogno e lei stava così la carne marcendo piena di piaghe come se aveva la lebra e diceva Signore Signore aiutami credo in Te io non voglio essere immonda non voglio essere morta in vita Signore la luce dammi luce dammi opportunità di seguirti di avvalorarti e dice in questo momento si è svegliata gridando chiedendo a Dio perché ha preso ha steso la mano e ha preso la mano di Dio e quando si è svegliata è andata dai genitori a raccontargli l'esperienza che aveva vissuto e che tutti i compagni erano immondi per il Signore e tutti loro erano lontani da Dio e che lei non voleva essere così che lei voleva tornare in chiesa e a partire da quel momento è tornata in chiesa e ha cominciato a seguire Dio con i Suoi genitori gloria a Dio e che per seguire Dio c'è bisogno di senno per seguire e comprendere che Dio vive e esiste c'è bisogno di essere savi e intelligenti per camminare come figli di luce giovani che mi state ascoltando a volte tutte le cose non convengono giovani che si fanno manipolare facilmente per le amicizie fate attenzione avvaloratevi molto perché voi dovete imitare Dio voi dovete essere figli di Dio dice nel verso numero 5 sappiate infatti questo nessun fornicatore o immondo o avaro che è che è un'idolatra ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio questo è quello che dobbiamo pensare che se uno cade nella fornicazione o immondo avaro o idolatra non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio e dov'è questo regno di Cristo e di Dio la Chiesa benvenuti al primo cielo perché per essere un cielo deve regnare Dio questo Dio che è Padre Figlio e Spirito Santo e nella nostra Chiesa Dio governa lì c'è Dio Dio che ha promesso quando Cristo è venuto ed è stato in mezzo a noi che era necessario che Lui andasse via per lasciare il Consolatore lo Spirito di verità e perché stesse con noi e dentro di noi e nella misura in cui voi imitate Dio e camminate come figli di luce Dio vi farà partecipe del regno di Cristo di questa grande verità e di Dio e voi vi sentirete come lo speciale tesoro imitare Dio e veramente vi allontanate vi allontanate dalla fornicazione dall'immondizia dall'avarizia dall'idolatria e veramente cominciate ad amare Dio sopra ogni concupiscenza ogni desiderio dove voi veramente volete uscire da queste tenebre e volete che Dio vi illumini e Dio vi coccolerà vi premierà e Dio un premio grande la vita eterna benedetto il nome del Signore dice nella prima lettera a Tessalonicesi capitolo numero 5 nel verso 5 dice voi tutti siete figli della luce sto leggendo nella prima lettera ai Tessalonicesi capitolo numero 5 verso 5 voi tutti siete figli della luce e figli del giorno noi non siamo della notte né delle tenebre per voi e per me che abbiamo seguito Dio che abbiamo voluto imitare Dio che abbiamo avvalorato il Signore Gesù Cristo come la luce del mondo perché abbiamo scelto la vita eterna raggiungere la vita eterna e avvalorare la dottrina e trasformarci rigenerarci noi siamo i figli della luce e figli del giorno non siamo della notte né delle tenebre la notte porta oscurità l'oscurità porta angosce per questo noi dobbiamo cercare sempre il giorno la luce questa torcia che è il Signore Gesù Cristo attraverso l'Evangelo attraverso la dottrina e voi dovete lottare dovete sforzarvi per non essere tenebre per essere luce per essere esempio per essere testimonianza dice la Bibbia nel verso 6 nel capitolo 5 di prima lettera ai Tessalonicesi perciò non dormiamo come gli altri ma vegniamo e siamo sobri che significa questo che non dobbiamo seguire nel mondo nelle tenebre morti in vita se no approfittare dell'Evangelo della dottrina e vegliare nella dottrina attenti attenti a praticare ad essere facitori della parola di Dio e dilettandoci seguendo Dio seguendo questo cammino questo è quello che Dio vuole che ognuno di noi veliamo costantemente abbiamo la mente di Cristo e ben chiara la dottrina e l'Evangelo per essere veramente e camminare come figli di luce e dice che dobbiamo essere sobri questa sobrietà significa essere semplici moderati nel nostro modo di essere di mangiare di bere di parlare di muoverci che dobbiamo essere discreti che vogliamo semplicemente compiacere il Signore e per questo agiamo come agiamo e ci allontaniamo dal mondo perché Dio ci insegna ad essere sobri nel nostro comportamento questa moderazione in ogni aspetto e dice nel verso numero 8 ma noi poiché siamo del giorno siamo sobri attenzione alla testimonianza attenzione all'esempio come padre come sposo come figlio come lavoratore come vicino come cittadino dobbiamo essere questo esempio avendo dice rivestito la corazza della fede e dell'amore Dio quando noi lo imitiamo e camminiamo come figli di luce Dio ci pone questa corazza della fede perché nessun dardo del nemico danneggi il cuore e la mentalità e dell'amore che significa che nella misura in cui io avvaloro l'Evangelo e la dottrina lascio il peccato per questo è un'unione è un'unione e quanto più ho la fede e confido in Dio e credo a Dio e credo a Dio perché mi ha parlato in sogni in missione in profezia perché ho sentito la sua manifestazione ho sentito che è verace allora lascio il peccato e do frutti per il Signore e dice anche che quando ho questa corazza della fede e di amore e che dimostro a Dio con fatti con opere che ho questa corazza della fede che ho creduto in Lui e non pecco e preso per elmo la speranza della salvezza che belle queste parole la speranza della salvezza che quando camminiamo come figli di luce abbiamo una grande benedizione e avremo sempre questa speranza perché questo Dio che abbiamo il Signore Gesù Cristo è un Dio di speranza che ci insegna che abbiamo diritto alla vita eterna come Cristo ha vinto la morte così noi seguendo Lui e il Suo Evangelo la Sua dottrina e camminando di luce di giorno imitando il nostro Dio con il nostro modo di agire di essere di vestire avremo questa speranza che quando lasciamo il nostro corpo raggiungeremo la vita eterna e se si può fratelli se possiamo raggiungerla la vita eterna dobbiamo solamente renderci al Signore pensare a Lui perché Dio esiste Dio vive Cristo è la nostra luce e Dio ci dà un ordine camminate come figli di luce se si può benedetto il nome del Signore e per questo abbiamo l'aiuto del nostro Dio l'aiuto dello Spirito Santo l'aiuto del nostro ministero la parola scritta di Dio solamente dipende da voi da noi dal nostro intendimento e la capacità e l'impegno per essere veramente un figlio o una figlia di Dio però dobbiamo camminare nella luce seguendo la sua dottrina e il suo Evangelo la gloria per il Signore benedetto la sua parola benedetto il nostro Dio preghiamo fratelli e diciamogli il Signore la gloria Padre buono tu sei grande tu sei onnipotente purificaci da ogni malignità purifica la nostra mente e toglici dalle tenebre Signore e portaci sempre alla tua luce al tuo Evangelo per camminare come figli di luce perché vogliamo essere chiamati figli di Dio per questo togli ogni maledizione dacci senno per amarti e seguirti guariscici da ogni malattia per quanto sia incurabile guarda quante malattie ci sono questo virus questo covid-19 liberaci guariscici proteggici e fai miracoli di ogni tipo del diabete del cuore dei polmoni della della pressione alta e tante malattie che ci sono solamente con la tua misericordia possiamo essere guariti liberi però anche Signore guariscici guariscici dalla nostra parte spirituale liberandoci da ogni attacco del nemico ogni congiura del nemico dacci intelligenza per amarti e seguirti benedici la nostra famiglia che ci sia pace armonia comprensione guarda Signore che con questa quarantena tanti matrimoni hanno problemi non c'è pazienza aiuta che ci sia questa buona amicinzia comprensione abbia misericordia questa buona amicizia fra sposi fra con i figli che ci sia rispetto dei figli verso i genitori e ci sono fratelli e sorelle che hanno promesse a livello sentimentale aiuta a compiere queste promesse a livello materiale aiutaci e benedici a chi hanno imprese aiutaci ad andare avanti a resistere a questa situazione che è difficile tanti fratelli che hanno perso l'impiego apri porte signore apri porte di benedizioni a tanti fratelli si sono dovuti reinventare a livello economico tu sei buono sei grande tu ci porterai avanti spiritualmente continua a liberare doni continua a manifestarti a darci visioni sogni battezzando con il tuo santo spirito la nostra sorella Maria Luisa dalle benedizioni grandi questa capacità che tu le hai dato perché lei continua a insegnarci perché lei continua a prepararci e a conoscere più di te di tutto quello che tu hai pianificato alla tua chiesa a livello mondiale continua a benedirla liberarla ai tuoi pastori signore ai credenti proteggi benedici porta avanti signore e oggi ti chiedo misericordia per l'umanità misericordia perché questa pandemia termini e tutto si ristabilisca presto guarda che ci sono tante cose oscure occulte però tu tirare fuori alla luce perché sei grande e misericordioso e per amore alla tua chiesa alla tua serva alla sorella Maria Luisa per amore ad ognuno di noi signore che presto termini questa pandemia signore la gloria a tutto te lo chiediamo nel nome di Cristo amen e amen fratelli che Dio vi benedica che Dio vi protegga alla prossima opportunità un forte abbraccio a a Grazie a tutti